Complimenti mister, è stata un po' la partita dei record perché si sono battuti tanti record, record di conclusioni, di occasioni da gol, di gol realizzati, una partita ai limiti della perfezione. Te l'aspettavi proprio così? Ma così è un bel vedere, magari mi sarei accontentato anche di qualcosa di meno, però è sintomo che poi i giocatori trovano esaltazione in questo dividersi tutti i compiti in qualsiasi direzione essi siano, questa disponibilità a voler riconoscere il risultato di squadra e di conseguenza poi attraverso quello vengono anche i risultati individuali, invece non è il contrario, quando poi i calciatori cercano il risultato individuale danneggiano la squadra e si fanno del male anche da soli, perché poi uno tenta di tirarsi fuori a volte da quello che può essere il collettivo per emergere, ma è poi il risultato della partita stessa che ti ritira dentro e che ti fa apparire come quello diverso e non viceversa. Non so come la percepivi dalla panchina dove ovviamente gestendola magari l'attenzione è magari non soltanto a quello che sta accadendo in azione offensiva ma alle coperture, a come sono posizionati su un'eventuale palla persa, ma dall'alto la sensazione era che ogni volta che prendevamo palla era potenzialmente un'azione da gol e non è sempre così, e non è sempre così automatico che sia così, anche se poi lo sforzo di una squadra è quello sempre di andare a cercare di fare gol. Oggi effettivamente sono stati bravi soprattutto sotto questo aspetto dell'equilibrio perché loro per modulo, facendo questo centrocampo a rombo con le due punte abbastanza centrali, anche se si dividono il campo in due, però non vanno mai a finire in bandierina, fanno sempre questi attacchi, uno primo palo, uno secondo palo, finiscono sempre lì, per cui la loro forza era nella corsia centrale del campo, avendo più vuoto sugli esterni ti viene involontario di andare a iniziare l'azione là. E poi quando perdi palla però loro rivanno dritto per dritto, per cui c'era da fare. Spingo sulla fascia, creo folto poi sulle loro ripartenze e sulla perdita di palla nel settore centrale. E sono metri, e se non ti spartisci bene, se non sei lucido di farlo prima con la testa e dopo con gli occhi, questo comportamento perché dopo quando la palla l'hai persa te ne accorgi con gli occhi, è tardi perché non ce la fai ad assumere quella posizione lì. Studio per il mister. Buonasera mister, io ho due domande, quanto è stato importante andare all'intervallo già trovando il 2 a 0 e se Icardi è Serpentesco, Perisic che cos'è? Allora, sono tutte importanti, se si riesce ad andare sul 2 a 0 è fondamentale, sarebbe fondamentale qualsiasi partita. Oggi abbiamo cominciato bene, al di là di due traversoni dentro l'area di rigore non ne abbiamo concesso niente, che si è fatto girare la palla con qualità, con velocità. E poi dentro queste misure corrette di espressione è venuto fuori che avevamo più forza nelle accelerazioni, nel concludere le azioni, avevamo più folto intorno alla palla, perché ormai il campo non è più di questa misura qui quando si gioca, ci sono tanti piccoli campettini dentro il campo grande, bisogna essere bravi ad andare a occupare bene quel campettino lì dove c'è la palla, per poi avere la meglio sulle scelte e sulle decisioni. Oggi hanno fatto una grande partita e gli si dice bravi. E su Perisic? Ivan è un giocatore stratosferico, ma io non vado a mettere in evidenza quei due gol che ha fatto, perché per lui è sicuramente la cosa che gli riconosceranno tutti. Quello che non gli riconosce nessuno è che sul secondo gol ha fatto una rincorsa in diagonale dove è partito dalla posizione di ala sinistra e è venuto a creare poi un dubbio dove loro hanno perso palla sul tersino destro. Si è fatto questi 80 metri in apnea incrociando il campo, venendo da quest'altra parte, costringendoli a un retropassaggio dove noi ci abbiamo recuperato palla. quelle sono le cose fondamentali che purtroppo imparerete a vedere un po' dopo, ma sono ugualmente importanti, perché da lì si costruisce poi una squadra e un collettivo. Buonasera mister, resta ben poco da dire dopo questa prestazione, però una cosa voglio dire è che io al suo hashtag senza tregua adesso inizio davvero a crederci. Tutto senza tregua, anche i complimenti ai nostri tifosi saranno da parte nostra senza tregua. Tutto senza tregua. Tutto senza tregua, grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.